Parlo poco lo sai, soprattutto di te E giuro che se te ne vai, non ti verrò a cercare Camminerò lontano dal tuo cuore E giuro che se te ne vai, cancellerò il tuo nome Riscriverò l'amore con parole nuove Riscriverò l'amore con parole nuove Riscriverò l'amore con parole nuove Baby, sono mesi che ti senti usato, sono mesi che mi vedi stan Riscriverò l'amore con parole nuove Baby, ti ho permesso di portarti a Tokyo Sento l'ansia nella tua risata Prima di novembre ai Viali Social TV, ci rivediamo dopo Sanremo, come stai? Bene, bene, molto bene, grazie Passate un po' di mesi, poi la partita del cuore, insomma ti stiamo un po' seguendo, tutto alla grande Sto preparando delle belle cose Però preferisco non dire niente non perché non voglio ma perché penso che la sorpresa sia più bella Comunque sto scrivendo tanto e ho delle belle cose per la testa e ho un bel progetto che spero di farvi sentire più che altro al più presto E anche un po' di scaramanzia che ci sta Sì esattamente Poi ti vediamo sui social, la gente ti vuole bene, abbiamo sentito un sacco di persone in coda da tante ore per vederti, abbracciarti, cosa ti dicono quando ti incontrano? Cioè quando li vedo sembrano, cioè tremano più o meno Questa cosa qua comunque è anche bella perché comunque vuol dire che dai qualcosa, li provochi qualche emozione e quindi credo che sia sempre una cosa bella Poi stai crescendo, dall'ultima volta che ci siamo visti ricordo fiumi e fiumi di ragazzina Adesso ho visto anche delle signore di una certa età che urlano che sono peggio delle ragazzine, ti chiamano dai vetri, fanno i selfie, quindi arrivi a chiunque Sì, è anche bello comunque perché vuol dire che arrivo anche a un pubblico più grande, quindi è bello, molto bello E poi sui social come sempre postiamo tutto, quindi questo Instagram senza like come la vedi? Diciamo che, allora, parto col dire che io non sono mai purtroppo stato un tipo molto social Però questa cosa qua dei like ci sono oppure non ci sono, credo che non lo so Per me non cambia No, non cambia Invece TikTok? TikTok me lo stanno suggerendo in tanti, quindi credo che prima o poi farò anche quello Il pubblico ti aspetta anche su TikTok? Farò anche quello allora Allora, è una promessa, lo diciamo Una promessa, farò TikTok E nel frattempo salutiamo gli amici a casa a tuo nome Ciao, ciao a tutti Farò le nuove Grazie a tutti Grazie a tutti